A Roma l'argomento principale di discussione è Totti. Il magazzino Gente ha pubblicato delle foto che lo ritraggono uscire dall'hotel dove era stata vista la giornalista sportiva Maria Luisa Giacobelli. Lei ha confermato di aver avuto una relazione con l'ex capitano della Roma. Ma come ha reagito Noemi Bocchi? Pubblicamente non ha detto nulla, ma una fonte vicina alla coppia ha rivelato che la flower designer non è affatto felice. Nonostante ciò è partita per Miami insieme a Totti. La relazione tra i due sarebbe in una fase delicata, con Noemi molto gelosa e controllante. Totti sarebbe infelice per le richieste della compagna. Nonostante ciò sembrano intenzionati a recuperare la loro storia, partendo per Miami per partecipare a un torneo di padel con ex compagni di calcio di Francesco. Nonostante la situazione complicata, sembrano voler tentare di ricucire il rapporto. Noemi ha reagito eliminando le foto con Totti dal suo profilo Instagram e limitando i commenti. La scelta di partire per Miami può sembrare incredibile, ma sembrano voler dare una seconda possibilità alla loro storia. La situazione è tutt'altro che rosea, ma i due sembrano voler lottare per il loro amore. Grazie a tutti.